Eicma di Milano, anzi di Roffiere, qui all'Eicma, il padiglione 15, stando 30, c'è MyTech, un rischio che, come vedete, qui non si corre proprio, è quello di bagnarsi. Il brand di Lecco, che ha una storia molto lunga, il gruppo addirittura ha una storia di 60 anni, presenta qui tutte le sue novità. È una gamma, quella delle sue valigie, che sono il core di questo marchio, è una gamma completa che si articola su diversi step. Adesso andiamo a vedere insieme questi prodotti e li potete vedere e li potete trovare tutti qui. Cominciamo subito dalla novità di MyTech, la nuova linea si chiama Ride Pro. È molto importante perché prende il posto e prende le mosse, ispirazione, dalla linea Ride, che è importantissima perché costituisce la storia stessa di MyTech. Si tratta sempre, lo dicevo, di valigie, questo è valido ogni volta che parliamo di valigie MyTech, parliamo di valigie totalmente waterproof e in alluminio. La valigia, lo vedete, ha gli angolari integrati, che sono comprensivi di agganci cinghia e di tubolari. Questo rende molto più trasportabile, anche con i guanti indossati, la valigia, quindi è veramente una bella comodità. E allora saliamo di livello con la gamma Model X, che rispetto alla Ride Pro ha delle caratteristiche ancora più importanti, per esempio l'alluminio che costituisce il corpo è più spesso, ma soprattutto c'è una possibilità di personalizzare fortemente queste valigie, per esempio nei colori degli angolari, oltre che nei colori del corpo che può essere nero, come vedete, o anche grigio. Nel caso in cui montiate un bauletto ingombrante, un bauletto da 58 litri, non c'è nessun problema per quello che riguarda l'apertura delle valigie laterali, visto che il coperchio può essere asportato. E allora, visto che siamo al cospetto del top della gamma MyTech, ci facciamo aiutare da Laura Contò. Ciao Laura, buongiorno. Buongiorno. Vedo qui, insomma voi siete specialisti dell'alluminio, però vedo qui un altro materiale, prima abbiamo visto delle borse morbide, allora raccontami un po' di questi materiali, che cosa state facendo? Sì, diciamo che noi specialisti dell'alluminio abbiamo deciso di esplorare anche altri fondi, così abbiamo creato due linee per andare incontro all'esigenza dei clienti. Una linea è la linea Soft X, la prima linea di borse morbide. Sempre waterproof. Esatto, sempre waterproof, composta da due borse laterali, il borsone da 60 e la borsa serbatoio. E poi abbiamo il top di gamma, la super leggera. Quindi come vedete è una valigia con l'accoppiata a carbonio e alluminio. Fibra di carbonio bellissima anche, francamente, questa merita che facciate un salto qui al padiglione 15, perché bisogna guardarla, bisogna vederla da vicino. Ma super leggera è il nome, che chiaramente non è casuale. Si risparmia tanto? Esatto, si risparmia il 44% rispetto a una valigia in alluminio, come per esempio la Model X. Quindi direi che è veramente, veramente leggera. Se i nostri lettori, il nostro pubblico, in generale, se gli appassionati vengono qui al vostro stand in questi giorni, lo stand di MyTech, ci sarete insomma a dare qualche dritta? Perché chiaramente se io mi volessi approcciare all'acquisto di valigia, soprattutto se non sono un motoviaggiatore super esperto, mi piace sentire chi invece è esperto, lo è e mi può guidare nell'acquisto. Certamente, e potrà anche sentire veramente il peso tra una valigia in alluminio e quella in carbonio e a parità di prestazioni e di sganci, potrà decidere quale farà per lui. Per le proprie esigenze. Vabbè, allora l'appello ragazzi è di venire qui, amici di Insel, padiglione 15, stand 30, MyTech, per vedere e esaggiare la differenza che c'è tra una valigia made in Italy di alta qualità e altro, che in questo caso ci interessa pochissimo. Grazie Laura. Grazie a voi. Grazie a voi.